Buongiorno, salve a tutti amici, piosini, come state? Spero tutto 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 bene Bene, oggi andremo a fare un super monsanto con le fiamme, le fiamme, le fiamme, le fiamme, le fiamme che arrivano, quindi piacciono un po', rilassi La fiamme, le fiamme, le fiamme, le fiamme, le fiamme La fiamme, le fiamme, le fiamme e le fiamme a presto Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.